L'ondata di gello proveniente dalla Russia non risparmia neanche Caltanissetta che è iniziato il lunedì con 2 gradi. Le giornate più rigide saranno martedì e mercoledì dove le temperature toccheranno i meno 4 gradi della minima e tra i 4 e i 6 gradi della massima. Il freddo è arrivato in tutta la penisola italiana. Già da ieri, domenica 5 febbraio, per l'intera settimana l'aria fredda che proveniente da est procederà verso occidente provocherà la formazione di un minimo di bassa pressione in corrispondenza della Sardegna. L'evoluzione del vortice provocherà un aumento delle precipitazioni e l'abbassamento delle temperature portando nevicate anche in pianura. Una settimana dove guanti, sciarpe e cappelli non mancheranno di certo e dove la prudenza in auto sarà indispensabile unendosi di catene e di ancora maggiore prudenza.